Ciao! Chi è Beelzebub? Cosa c'entra nelle nostre malattie? Come distinguere Beelzebub e malattie? E penso che una cosa è la malattia. Il creatore della malattia è una parte della nostra esistenza, di questo che fa noi vivi, perché è questo che si modifica il nostro DNA e permette a noi come razza umana vivere. E quindi è parte del nostro ordine. Ma naturalmente creano i problemi. E adesso cosa succede nella nostra società? Noi demonizziamo le malattie. Diciamo a uno o d'altro, sei malato, hai fatto qualcosa sbagliato, è colpa tua, è colpa di tuoi genitori. Iniziamo di buttare demoni dentro. I demoni entrano così in questo Vangelo. Questo che Gesù cura, non solo cura malattia, ma il Vangelo fa il scopo che butta via il demonio. Butta via, perché questo che puoi vivere avanti, puoi, se questa malattia non è demonizzata. Quindi Gesù butta via. E non può questo fare con il capo degli demoni, perché demoni proprio vogliono venire questo odio, questa paura, questa demonizzazione di tutto al tanto. E quindi penso che l'Evangelo invita a noi di dedemonizzare malattie, perché anche se hai una... adesso tante persone anche io ho ADHD. Questo ti crea non solo problemi che così funzioni, ma anche altri si attaccano a altre malattie. Perché finché non capisci che sei malato o sei... certa tua caratteristica del tuo cervello, di modo di pensare, si attaccano a altre cose. Può essere depressione, può essere che uno ti rispinge, perché sei... tua emozionalità è un po' diversa, e altre cose di questo tipo. Quindi questo che inizia è proprio questa demonizzazione, che non riusciamo a capire che possiamo essere come siamo e cerchiamo... dobbiamo riuscire a capirsi in nostra diversità. Così penso io e tu divisi con me.